Buonasera a tutti, siete pronti per la night session di mercoledì 14 settembre? Spero di sì. Sono le 23.06 e che cosa andiamo a vedere? Andiamo a fare varie considerazioni. La prima sul grafico giornaliero è che qui abbiamo avuto, come avevo segnalato, la violazione dello swing per la partenza di un nuovo T2, ma abbiamo anche violato quello per il T3 prima cosa. Seconda cosa, siamo a 8 barre su quanto è massimo di un primo settimanale che appunto come minimo da vita ha un mensile, se sarà mensile. Perché potrebbe non essere mensile? Perché tra ogni ciclo superiore e un altro ciclo superiore possono succedere altre cose. C'è una variabile. quella di cui tanto alcuni parlano senza cognizione di causa. Per il resto abbiamo serenamente proprio chiuso il primo mensile inverso fatto a U partito da questo massimo e abbiamo avuto una buona partenza da quest'altra parte con due candele per ora a livello di tempo soltanto di un di settimanale. sempre inverso. A questo punto sappiamo che al massimo si potrebbe continuare a scendere per tre giorni interi, ma in realtà siamo già a una durata media di un settimanale. Quindi, come vi ho detto quando eravamo andati alla sesta candela del quarto T inverso, questa qua, proprio sul livello della media mobile e sotto il livello inferiore della cumo, ricordatevi che qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente, questa volta per quanto riguarda il T settimanale, per chiudersi. Capite quanto è importante ricordare una condizione necessaria e sufficiente? Ci si predispone a un cambio di trend eventuale. L'avevamo già ieri, ce l'abbiamo ancora oggi, ma ieri con una long black, sarebbe una long red, non mi aspettavo un rimbalzo. Mi aspettavo invece una candela più simile magari a una doji. Non è una doji, ma ci si avvicina per adesso, oltretutto, non è ancora la candela di chiusura, quindi questa forma mi piace per un'eventuale ripartenza. E chi studia le candele giapponesi, che sono parte dell'evoluta, sa che una forma come questa può portare eventualmente a una risalita, ribadisco, meglio ancora di più una doji con il corpo più piccolo possibile o inesistente, c'è il discorso che non è ancora chiusa questa candela. Non sappiamo ancora, non sapremo ancora fino a, tra un pochino di tempo, come chiuderà, però la forma è già interessante. Sappiamo che la condizione necessaria e sufficiente per l'annullamento di una candela di interdizione come può essere appunto la doji e andare al giorno successivo sotto il minimo che è per ora, ribadisco, per ora è 19.624 dollari. Quindi avete già tante indicazioni da queste cose dette. Passiamo a questo punto al grafico a 45 minuti. Abbiamo aspettato tutto il giorno, tutta la divergenza possibile, massimi decrescenti, massimi crescenti. Che se andasse giù a scendere, quando ti è sceso, sotto il minimo di partenza del settimo tm3, in ventottesima barra, grazie, non ci abbiamo fatto niente, appena è sceso, appena è andato in violazione di questo minimo, ma poi è subito risalito e quindi fossimo entrati qui, tardi, oltre la ventiquattresima, staremmo soltanto perdendo soldi. In questo momento, e poi bisognerò vedere perché, perché è apparso un death cross. La media mobile si è piegata letteralmente, la più veloce, ad andare in death cross rispetto a quella 200. La situazione in questo momento non è affatto bella, per cui, viene da pensare, ma se non è partito un nuovo trimestrale, che cosa può essere partito? E quanto può durare al massimo? Chi studia sa già tutto, ha già capito tutto, non devo aggiungere altro. Per cui, cosa faremo da adesso in avanti? Uno, vedremo se riusciremo ad avere un rimbalzo degno di questo nome, perché, attenzione, il settimo tm3, nessuno ha detto che si sia già chiuso su questo minimo qua, quello delle ore 8. Credo che siamo andati oltre le 24 barre, ma se non avremmo un rimbalzo degno di questo nome, con quelle che sono le condizioni per far partire l'ottavo tm3, per me siamo a 32 barre in questo momento e si può arrivare fino a 44 su un ciclo giornaliero t-3. E a 44, quando è che quindi potrebbe eventualmente terminare con una massima durata? Alle 8 di domani mattina, quindi potremmo anche fare una morning session se ci fossero delle novità. Non sto a tirare il Fibonacci, si vede benissimo che siamo scesi ben oltre il 50% di ritracciamento, siamo andati passino oltre il 61,8, quindi questo ciclo in questo momento rischia di diventare neutro. Non ci sono motivazioni per ora per andare long, per ora non c'è uno swing, non c'è il tempo, non c'è nulla. Ci stiamo però ancora dimenticando di una cosa, inverso, ciclo a U che parte da massimi, va su minimi e torna su massimi. Qui può aver chiuso? No, 20 barre assolutamente, qui sì, qui a 34 sì. Qui quanto saremmo? 45? No, mi spiace, oltre tempo. Quindi sappiamo che il secondo t-3 inverso, il secondo ciclo che parte da massimi, scende su minimi e torna su massimi, è partito da qui, ha già fatto il suo massimo, ha permesso la chiusura del settimo t-3 del settimo ciclo giornaliero e adesso dobbiamo vedere che cosa può succedere, per cui, primo allarme, mettiamo un allarme a 20.402 dollari. Perché lo mettiamo qua? Perché in caso di violazione di questo massimo, prima delle 24 barre, in questo momento siamo a 11, noi valuteremo eventualmente un long. Con la possibilità, peraltro, che si sia chiuso con la condizione necessaria e sufficiente a questo settimanale, si provi un rimbalzo. Noi abbiamo secondato, rispetto agli altri, gli short sugli indici. Una delle cose che mi piace di più delle volute è che dopo una caduta noi continuiamo ad andare short. Ci sono trader che provano subito a vedere se si rimbalza. Noi sappiamo che si può continuare a scendere. Infatti, in violazione di questo minimo, siamo andati short, guadagnato. In violazione, già fatta ieri, di questo minimo, ci siamo presi temporaneamente un rimbalzo. Non c'è stata la violazione del massimo che avevo detto che faceva d'allarme per un rischio che ci fosse un errore di centratura. E cosa è successo? Siamo andati sotto questo minimo. Minimo a 22.306, minimo a 22.301. Quindi, due su due. E quando è risalito, quando non siamo andati a fare un massimo superiore a questo, noi abbiamo messo un secondo chip. Il primo chip è messo in violazione appunto dei 22.306, il secondo è messo qui, chiusura qui, perché? Perché abbiamo avuto la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura. Un minimo inferiore a questo. Noi abbiamo venduto sui minimi. Ok. Metodo statistico, matematico, no, discrezionale. Due su due, solo oggi. Se aggiungiamo gli altri gain, siamo a 6 su 6 per adesso su DAX, MIB e S&P 500. Su MIB e su DAX abbiamo avuto violazioni nel periodo corretto. Purtroppo su Bitcoin no. Ma non sarebbe andata bene comunque come trader. rischieremo di essere, di chiudere adesso in pari, perché vedete, stiamo tornando di nuovo qui sotto. Non sarebbe un trade particolarmente eclatante. E può succedere, ribadisco. Però cerchiamo di evitarlo. Arriviamo a determinate cose importantissime. Ok. Abbiamo ricevuto oltre 500 mail soltanto il 5 di settembre. Quando è stata ridata la mail per il gruppo premium. Per gli appunti e per tutto il resto. Ok. Stiamo gestendo le cose più rapidamente possibile. Vi chiedo di avere solo pazienza. Intanto, soltanto dal giorno in cui siete dentro Discord, nel gruppo premium, a quel punto lì, sapete che se vorrete mai rinnovare l'abbonamento, potrete semplicemente appunto farlo, ma da quando siete dentro. Quindi non perdete nessun giorno. Anche se noi purtroppo siamo un po' in ritardo. Da questa sera a domani mattina dovremo fare una grande infornata di tutta la gente che ha già richiesto di entrare. Abbiate per favore pazienza. Non siamo come dei colossi dell'e-commerce e non ci aspettavamo sinceramente tutto questo ritorno. Anche se, ribadisco, la statistica ha parlato estremamente chiaro anche nelle medie di agosto. Soprattutto per Bitcoin, ma anche per tutti gli altri indici. Tutte le analisi sono state corrette. Sono tutte andate a target. Standard Impost 500, Nasdaq, DAX, MIB. Potete controllare come al solito sul gruppo. Direi che ci siamo. Abbiamo detto tutto. Ho dato anche le informazioni di servizio. Quindi, attenzione allo swing che vi ho dato. Questo qua. Allarme a 20.402. E poi attenzione qui. Ovviamente al minimo a 19.624 dollari. Che però può non servire a nulla. Perché se non andiamo in violazione di uno swing di massimo può non essere partito nessun ottavo di meno tre. Tutto qua. Direi che questo è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Ed eventualmente ci sentiamo dopo le 8 di domani mattina. Prima analisi sui mercati tradizionali DAX e MIB. E successivamente Bitcoin. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie.